Buongiorno, credo che con Tori e Lokita emergano due parole chiave non solo del film ma anche del vostro cinema. Le parole sono sguardo e riconoscimento, il riconoscimento dell'amicizia, della fratellanza fra Tori e Lokita, dell'umanità di questi personaggi e anche lo sguardo che voi adottate per restituire queste vicende nella maniera più umana ed empatica possibile. Si può dire quindi che il vostro cinema sia un tentativo di aggiustare lo sguardo? Allora, Tori e Lokita è giustamente un film che si basa su due mots cli di vostro cinema, c'è a dire guard e reconnaissance, reconnaissance di l'amitié, di la solidarietà. E allora, io mi dico, è possibile dire che i vostri film sono una sorta di guarda sull'actualità, di guarda sull'umanità? E allora, io penso che l'onessere di filmare, come vuoi dire, l'onessere di filmare dei personaggi in un decore, in un decore, in un decore, ma che gli apparaissano vivanti. Io voglio dire, come qualcuno, come una persona che voi rinconterà, a cui voi siete in relazione durante la progettazione. Che voi non potete avere un guard che li fige, che dice che sono dei migranti. Non, c'è Tori e Lokita, sono dei migranti, ma non potete non potete le risumer a questa situazione. Quindi, far esistere, c'è questo il guardo umano, o il guardo umanista, non ne so esattamente ciò che avete detto, ma c'è questo il guardo. C'è essa di far esistere i vostri personaggi come dei uomini, che voi guardano, e che voi guardate, ma che voi guardano anche. Assolutamente sì, noi cerchiamo in qualche modo di filmare, di mettere su scena dei personaggi, che però vogliamo sembrino vivi, che in qualche modo possano entrare in sintonia, in empatia con lo spettatore e non siano dei personaggi che restano incasellati in una categoria. Sono per esempio migranti, in questo caso. Quindi noi vogliamo veramente che lo sguardo sia uno sguardo che in qualche modo ce li rende umani. Possiamo utilizzare sguardo umano, sguardo umanista in qualche modo, ma comunque uno sguardo che ce li fa vedere come individui, come persone e non come semplici cifrostatistiche. Quanta parte del rapporto tra i due giovani protagonisti è stata approfondita e strutturata sul set, nelle riprese anche sulla base del legame tra i due giovani attori? La relazione, il lien entre questi due attori, c'è a dire, on y ha lavorato avant la realizzazione del film o anche nelle scena? Il lien entre i due comediati? Si, come attori, tu intendi o come personaggi? In che modo il rapporto dei due personaggi è stato influenzato anche dal rapporto tra gli attori? Si, c'è a dire la relazione tra i due comediati che ha avuto un impatto, anche sul rapporto dei diversi personaggi da l'Historia? Allora, le rapport tra i due personaggi da l'Historia exista, il scenario. Ma come donna vita a cela, a questa amica? Come la concrätisere in loro moviment, in loro gesti, le regard, le exchange de regard, la proximità dei corpi, un po' di l'éloigno dei corpi, come far vivere questo? C'è grazie a le ripetition, perché i due comediati, non Joeli, non Pablo, non si conoscevano. I hanno fatto conoscenza l'un di l'altro a través delle ripetition di loro role, a través delle ripetition di loro role di Torri e di Locita. E la prima incarnazione, se posso dire, di questa relazione, la naissance di questa relazione, c'è nella ripetizione che abbiamo fatto della scena dove i sono in loro chambre e il court, o Locita court après Torri e poi che lui fa l'arrêt sull'occhi. C'è il rythme di questi rapporti fisici, i loro schienzi, che hanno fatto naire, che hanno fatto naire, le loro connivence, anche tra comediati, che era indispensabile. E ciò che sono in la vita ha anche influenzato la maniera dove noi abbiamo incarnato i loro rapporti. Per esempio, Torri, Pablo, che è un ragazzo che ha già un 12 anni, e quando è un ragazzo di 12 anni, in ogni caso, è il caso di Torri e il caso di molti bambini, i ragazzi hanno dei rapporti difficili con il corpo dei figli più agi. Non so perché, ma prima, ci ha fatto peur, e poi abbiamo l'impression che c'è un avevo di faiblesse. E al principio, il ne voleva troppo se rapprocher fisicamente di Locita, di Joeli. E grazie a questo, il ha fatto due o tre propositi. Par esempio, nella scena di cui vi parla, quando si appellate sull'Eli e si installaci, c'è lui che ci ha proposto. Il ha detto non, 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 se non potremmo non potremmo cercare altra cosa, e abbiamo sentito che il ragazzo blocchia e che potremmo aveva razione di blocchia, perché a plusieurs reprises aveva razione, c'è a dire che il ha creato un'altra connivenza, e il ha detto se mi metto come questo, che cosa pensate? E abbiamo detto che non è buono. Quindi, hanno anche riuscito le cose. Quindi, il rapporto fra i due personaggi ovviamente già esisteva nella sceneggiatura. Per quanto riguarda invece il rapporto fra i due attori, ci siamo resi conto durante le prove che facevamo con i due attori. E effettivamente abbiamo visto che a volte molti dei suggerimenti che venivano proprio da loro erano molto importanti, molto interessanti. Abbiamo visto, per esempio, che in qualche modo Tori, il bambino che ha 12 anni, è un maschietto che a quell'età ovviamente ha una certa difficoltà a rapportarsi con il corpo delle ragazze più grandi. E allora, a quel punto abbiamo visto, per esempio, che lui aveva una qualche difficoltà ad avvicinarsi a lei. E c'è una scena in particolare dove noi volevamo che loro fossero molto più vicini e invece Tori si è praticamente rifiutato di farla e ci ha proposto quella immagine in cui lui sta con le braccia a concerte sul letto e ci è sembrata, per esempio, una soluzione molto interessante. Quindi è chiaro che piano piano andando avanti con le prove loro sono riusciti anche a creare questo rapporto di distanza, di avvicinarsi, di movimento, così tramite le prove. Grazie mille.